Cori interculturali Si chiama Babbele Bab e il nome palindromo invita a leggere al contrario la leggenda della torre biblica coi diversi popoli che questa volta si incontrano e si comprendono reciprocamente grazie alla musica Persone che cantano e fanno musica proveniendo da regioni, nazioni, religioni diverse Questa è un'esperienza che ha una rilevanza come potete immaginare di tutti i tipi, politica, musicale, etno-antropologica Gli italiani che fanno parte del coro si imparano le canzoni kurde ma i kurdi si imparano quelle rumene, i rumeni cantano in spagnolo è un mondo in cui tutte le lingue si capiscono fra loro è come ricomporre Babbele dopo il disastro e i disastri che segregazione, razzismo, pregiudizio continuano a produrre I coristi saranno ospitati a Napoli con la rete di famiglie della Caritas Diocesana mentre altre associazioni laiche e religiose daranno sostegno all'iniziativa Per noi credo che è un'occasione intanto di relazione di testa delle rete ma soprattutto di far riscoprire a Napoli che è una città accogliente a tutti i colori e quindi è veramente un'esperienza bella e invitiamo tutti a esserci perché i processi iniziano a permettere di creare cultura di creare nuove mentalità e quindi di riscoprire la bellezza che ogni realtà porta in sé Fra le iniziative collaterali nel weekend ci saranno improvvisazioni, flash mob e un laboratorio di canto spontaneo domenica mattina alla metro di Scampia Il festival è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica È un progetto veramente fondamentale per il percorso di Napoli Città della Musica perché? Perché rispecchia alcuni degli obiettivi principali in particolare l'attenzione ai migranti, l'attenzione a una città policentrica l'attenzione all'inclusione, noi abbiamo fatto anche dei band in questo senso e quindi questo progetto veramente ci ha visti protagonisti proprio perché è un progetto che risponde perfettamente agli obiettivi politici dell'amministrazione Manfredi In primo luogo Napoli come grande città di accoglienza, di inclusione multiculturale, di dialogo tra i popoli Il luogo Scampia che sta diventando sempre di più una delle nuove facce della città dove ci sono grandi trasformazioni urbane c'è grande attività culturale ci sono eventi sempre più affollati e dove poi ci sono queste attività culturali che sono sempre più significativi e interessanti